No, vieni indietro dai che è più semplice, vieni indietro Vieni, 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 vieni Ferma È solo in un punto se è fuori la tela E non tantissimo, quindi ce la fai ad arrivare a casa Ok Vai E boh amore, non so, prendi l'M5 e costa 75 euro Però poi magari nel mentre che ti finisce quella davanti riassortisco le dallop e... E domani mattina, o comunque domani guardo bene e le compro E per forza amore è la tela di fuori Beh da un lato buona che il prossimo weekend comunque vengono sui miei, c'è il compleanno Non potevamo far comunque un c***o Ne approfittiamo che questa settimana la ordini arriverà settimana prossima, immagino Beh sì Bene Fas, abbiamo fatto anche il tonale Abbiamo notato che la gomma di luna è decisamente arrivata alla frutta E adesso scendiamo dal tonale e ci dirigiamo verso l'aprica Mucchine Se no guida con la moto inclinata Cioè tu stai col busto dritto e tieni la moto inclinata Così la consumi sulle spalle Ah Potrebbe essere un'idea Tipo guidi come il tipo che ci ha superato in Val Trebbia Flashback Ok, occhio amore, occhio che questo qua dietro C'è uno in moto? Sì Si sta ammazzando per superarmi Che moto è? Ma che c***o, non so ma Ma come guida poi? Ma boh Ma cosa fa? Ma hai visto come ha fatto la curva? Siamo tardi Ma guarda Ma tutto bene? Buoh End of flashback Beh ma penso che siano fatte per darti ancora un minimo di margine di sicurezza Quando te ne accorgi che è finita Eh non lo so Spero di sì Guarda anche qua che slalom, che serpentina Però visto che è la 360 Se mi fai passare un paio di volte che viene un video più bello sarebbe meglio Dovremmo riuscire anche ad arrivare a Castione per fare benzina Occhio che questa era brutta Che venticello freddo Mamma mia Più che venticello fa un freddo della madonna Con quei 15.6 gradi E ti è passato Debo ha riscatto alla vita un topolino Mamma mia Giuro Tra un po' lo scacciavi Non l'ho visto Non l'ho neanche visto Cosa c'è un posto di blocco? No No ho visto uno in mezzo alla strada No no c'è solo un bordello di gente Infatti questo di blocco alle 8.20 di domenica sera mi pare un po' strano Abbiamo oltrepassato anche Ponte di Legno Adesso dobbiamo arrivare a Edolo E poi da lì fare l'aprica E poi dall'aprica a Bema sono Orca miseria se era stretta sta curva Dall'aprica a Bema sono circa un'oretta Un'oretta e dieci Ce la farà la mia gomma ancora un'ora? Eh sì ma arriverà in condizioni molto molto critiche Tra l'altro vai davanti a me che almeno ti controllo Luna Colombo il freno dietro che non esiste Non freno un cazzo Ma fa niente Ma serve per impostare le traiettorie Ma sì ho capito ma se vado forte non uso quello dietro Serve per impostare le traiettorie soprattutto quando vai forte Adesso voglio solo arrivare a casa Bene fans siamo arrivati giù a Edolo Ah che stanchezza veramente Sono le 8.34 Ho perso l'una Che neanche risponde oltretutto Che nervoso Mori? Oi Vuoi che controllo? Sì A parte che non cambia un cazzo E rallenta Rallenta qua Amore prima della curva Non dopo la curva Beh ciao Ma perché? Perché controllo Non ti devi fermare Basta che vai molto piano Guardo No però devi andare più piano di così Cioè devi quasi fermarti Ah così non vedo un cazzo Però fermarti Cioè non vedo un cazzo nel senso che non mi sembra messo malissimo Oh vai Pian pianino Fermo Ferma No vieni indietro dai che è più semplice Vieni indietro Vieni 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 Ferma Solo in un punto c'è fuori la tela E non tantissimo Quindi ce la fai ad arrivare a casa Ok Vai Eh con le pirelli lì non mi piacciono anche perché si consumano in maniera disomogenea Cioè vedi un pezzettino c'è fuori la tela Il resto della gomma c'è ancora Boh Non mi sono proprio piaciuto per niente a me Con le dalle ho subito avuto più feeling Sì però si vede che Cioè davanti Cioè l'incentro è consumato tanto e L'altre no Se guardi la mia È molto più omogeneo il consumo Sì Maron 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 È tutto Giuliacci grazie Che puttana Quanta grande È gigantesco ma cos'è Boh Bene abbiamo traversato anche l'aprica Adesso ci mettiamo giù in direzione voltellina Voltellina Speriamo col caldo Ti do una testata Che freddo Sì ma c'è l'acqua calda Beh ci sta Sì l'ha accesa ieri C'è stato solo tutto il giorno Freddo No non penso Le camere non l'hanno usata oggi Perché se ne sono andate via stamattina presto Fa capellanda che strada piena di buche Ti ringrazio mio signore Non ho più paura Perché Guarda che slalom prepotente Con la mia mano nella mano degli amici miei Cammino tra la gente della mia città E non mi sento più Solo Ti scorda Mai di me Che c***o urli Porca Vacca Pelanda L'asfalto Eh Eh sono rimbalzato anch'io Anche la discesa della prica è finita Questo vuol dire che Mi è entrato un moscerino nel casco Non volevo dire questo che la discesa della prica è finita Vuol dire che adesso ci manca solo che più Tutto il pezzo di statale fino a Morbenio per poi salire su a Bema Oh si sta già meglio come temperatura Quindi direi che dato che da qua è a Morbenio è tutta statale dritta Teletrasporto 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 fino a Bema Così vi siete scansati quell'ora di statale che mamma mia che peso l'ora di statale È stato l'ultimo Cioè tipo il colpo di grazia Esatto Vasto Adesso prendiamo le chiavi del garage Da papà Fabiano Ma ce le possono lanciare tipo E devi chiedergliela Luna Colombo E la proattività Ciao Ciao Eh si Ci dai le chiavi del garage? Ci dai le chiavi del garage? Bene Anche se il posto più bello della giornata ha due posti di blocco E abbiamo dovuto farlo A 30 all'ora Eh si Flashback Ah ma ancora qua? Ma che palle Anche quello dietro di te ha largato le braccia come dire che due Cioè la caccia alle streghe cos'è? Vorrei proprio sapere dove si sono messe adesso Non mi fermeranno ma è vero? No dai Bravi Bravi Ma così proprio piantati in mezzo alla strada End of flashback Grazie Patatina Ciao Grazie Luna che sei andato tu a prendere le chiavi Grazie amore che sei andato tu Chiavi del garage recuperate Andiamo a metter via le moto Siamo arrivati in garage Abbiamo fatto Sia no 500 Qualcosa Kilometri Io non capisco Chi dice che ha fatto il giro lungo Ne fa tipo 100 150 Il giro lungo è dei 400 e 600 In giornata Esatto Sotto i 200 Non è anche un giro Tipo quando vai a fare la spesa Bene quindi per questo video può essere tutto Ciao fans Ciao fans Ciao fans sono le 7 e 35 Ci siamo fermati prima di fare il tonale Per cambiare le batterie eccetera E adesso dobbiamo ancora fare tonale a prima Per andare in baltellino e tornare a casa Abbiamo appena Siamo appena passati da Madonna di Campiglio Spettacolare E basta Adesso andiamo Sono arrivati